Venafro, piazzale antistante il convento di San Nicandro, il vigile del fuoco che vedete agilmente inerpicarsi lungo la scala che di solito viene utilizzata per gli interventi di soccorso, sta assolvendo all'ormai tradizionale compito che ogni anno nella ricorrenza della festa dell'Immacolata vede in azione i caschi rossi di Isernia. Consiste, come ben testimoniato dalle immagini girate nel corso della mattinata, nell'adornare con una corona di fiori la statua della Madonna che campeggia in cima al campanile della Basilica. Con l'iniziale supporto dei colleghi, necessario a prendere l'abbrivio sui primi gradini e sotto lo sguardo attento dei fedeli che poco prima avevano assistito alla celebrazione della Santa Messa, il vigile del fuoco prescelto ha portato a termine l'inusuale compito, con una particolarità, il signor Mario prossimo alla pensione è il vigile del fuoco più anziano chiamato all'incombenza. A lui, anche dalla redazione di TV Imolise, i più vivi complimenti e un grazie, soprattutto per il lavoro di una vita al servizio della collettività.